Allora amici di Ciao Como, abbiamo fatto il primo pezzo in diretta ma c'è problemi di connessione qui a Zelbio e allora ovviamente ci sono sempre i nostri amici che ci danno una mano, gli amici da San Bernardo e non solo, Autovittani, ma anche il nostro Roby, il focacciaro di Via Borgovico, che salutiamo ovviamente. Partiamo da qui per vedere Zelbio, in parte abbiamo già visto, questa è la bottega storica, la bottega Frisoni, come vedete, con Laura e Mauro che ci hanno già fatto vedere che da 130 anni sono riusciti a sopravvivere a tutto e a tutti. Siamo nel centro di Zelbio per parlare con Laura e per farci raccontare un po' di questo piccolo borgo che è arrampicato, come vedete, nella zona del triangolo lariano sopra Nesso. Ciao Laura, buongiorno ancora, allora facci vedere un po', dunque siamo partiti dalla tua bottega, dove andiamo? No, io vi facci vedere il centro sportivo. Va bene, facci vedere il centro sportivo di Zelbio, il sindaco so che ci tiene molto perché dice che ha fatto un bel lavoro. Abbiamo fatto un sacco di lavori. Ok, quindi fai la voce narrante fuori campo, mi spieghi tu bene. Sì, ma tutta la strada. Sì, tutta la strada. Tutta la strada, dai. Intanto ecco un'altra cosa che vi voglio far vedere di Zelbio, che ripeto è forse il più piccolo della nostra provincia, è questo. L'albergo ristorante National, giusto, che abbiamo visitato proprio l'anno scorso. C'è anche il teatro, poi, perché a Zelbio dovete sapere che d'estate, durante il mese d'agosto e sabato prossimo c'è un grande ospite, c'è una rassegna importantissima che si chiama Zelbio Cult, dove arrivano anche grandi personaggi, tra cui sabato chi c'è, Laura? Cocchi di Cocchi, Cocchi Ponzoni di Cocchi Renato. Esatto, del duo Cocchi Renato c'è Ponzoni, Cocchi Ponzoni, che appunto è uno dei due appunto componenti, e quindi verrà qui sabato prossimo a Zelbio a spiegare, a parlare della sua carriera, insomma. Ecco, questo è il centro, diciamo proprio così. E poi si arriva fino al centro sportivo, che è giù sotto. Ed è un centro sicuramente importante. Allora, questa c'è la Proloco, hanno il campo da voce. Esatto, c'è la Prozelbio, c'è la Prozelbio, esatto, ok. C'è anche il campo da voce, Laura? Sì, è questo. Ah, eccolo qua, sì, sì, esattamente. Qua sotto qua c'è proprio il campo da voce, ecco, che ancora sopravvive. E non è una cosa facile. Poi, andiamo avanti. Dopo c'è l'hotel, esatto, ok. E poi c'è il nostro centro sportivo. Il centro sportivo, ok. E va vanto di Zelbio. Vanto di Zelbio, vabbè, ma anche l'albergo è sicuramente un vanto, assolutamente. Perché pensate che... Anche perché si riempie di stranieri. Si riempie di tanti turisti, siccome più di cento, poco più di cento abitanti, Zelbio. Eppure, avete visto, c'è l'attività di Laura e di Mauro. E no, lo dico, lo dico, perché è un miracolo. Dopo 130 anni essere ancora lì, io credo che solo voi potevate resistere. E poi, adesso, andiamo verso appunto il centro sportivo, vanto, come hai detto tu, del vostro comune. Allora, questo è il sagrato della chiesa con il teatro che è questo qua. Ecco, il teatro di Zelbio è questo qui, giusto? E dove poi c'è la segna, giusto? Sì. La segna Zelbio-Calta viene proprio qua. Esatto, questo è il teatro, come vedete, di Zelbio. Perfetto, e andiamo a vedere, passiamo davanti. Questa è la chiesa, il teatro, appunto. E dove facciamo tutte le manifestazioni. Le manifestazioni le fate qua, ok, esatto. Abbiamo tutta una cucina attrezzata. Quindi, se volete venire a vedere il Zelbio-Calta, questo è il teatro, ma è attaccato proprio al centro, non ci si può assolutamente sbagliare, ok? E questo, invece, è il centro sportivo. Che dicevi perché? Beh, insomma, bellissimo anche il campo, assolutamente sì. C'è il campo da tennis anche? C'è, beh, devo dire che... Allora, c'è il campo da tennis, c'è il campo di volley e di basket e c'è il campo di calcio, assolutamente, che è in sintetico, giusto? In erba sintetica. E quindi devo dire che, insomma, avete... Beh, è sicuramente un gran risultato. Abbiamo appena fatto questo parcheggio, in modo che quando... Quindi il centro sportivo è questo, vero, Laura? Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Vabbè, beh, tanta roba, sicuramente. Non abbiamo ancora finito, dobbiamo mettere anche gli attrezzi per fare un percorso vita, una roba del genere. Ah, volete fare anche quello? Ok, perfetto. Va bene, tanta roba, sicuramente. Abbiamo visto quindi, praticamente, il centro sportivo, il teatro, la chiesa, insomma, tutto quello che c'è di Zelbio qua, tutto... Quello che possiamo offrire. Eh, che potete offrire, insomma, devo dire che mi sembra tanta... Per non far annoiare i turisti. Beh, ascoltami, i turisti d'estate continuano ad arrivare, vero, Laura? Sì, sì, sì. È sempre pieno? Sì, sì. Quello, invece, è Veleso. Ma c'è anche tanta gente che ha la casa, per cui magari fa 15 giorni al mare, ma poi... Esatto, d'estate si riempie, si riempie. Bene, questo è Zelbio, grazie al sindaco che ce l'ha voluto far conoscere, grazie a Laura, soprattutto, siamo partiti dalla sua bottega e siamo venuti qua per farvi vedere il bellissimo centro sportivo che, effettivamente, devo dire che però... Poi, devo dire, ci abbiamo messo tutti i pannelli solari in modo che... Dove? Qui. Sì, fammi vedere. Qui sotto, in modo che sia alimentato. Ok. Il centro sportivo? Sì, sì. Con i pannelli solari, per le luci, per la cucina, per il teatro, secondo me. Beh, insomma, bellissimo intervento, anche dal punto di vista green, sicuramente importante. Qui sotto. Ah, eccoli, questi sono i pannelli, i pannelli solari, quindi prendete l'energia da qui e la utilizzate per teatro e centro sportivo. Grazie, Laura, un caro saluto, grazie. Grazie. Grazie a me. Grazie. Grazie a me.